Bentornati a tutti. Oggi è mercoledì, 1 maggio 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Leone. Ride bene chi ride ultimo. Se i colleghi si sono fatti il primo e secondo ponte lasciando voi a lavorare, stasera è il vostro turno di prendere la valigia, partire e godervi le restanti giornate con meno gente in giro e magari con un meteo più clemente. Per questo finalmente nel pomeriggio, sobbillati dalla luna in sesta casa, lavorate senza tregua, in modo da lasciare l'agenda in ordine, passando il testimone al collega che vi sostituirà. Ma anche se non avete in progetto viaggi e partenze, il passaggio della bianca signora, vi rende insofferenti all'ambiente e se non vi lasciate andare alla polemica è solo per non perdere altro tempo prezioso. E così grazie a qualcuno che vi ha dato una mano saltate in groppa alla moto cromata di Marte, passato in ariete, e scappate via liberi, liberi, come canta Vasco, veloci come il vento. Un amore complesso e complicato, ingenuo, fatale, l'amore può essere non ricambiato e corrisposto. La coppia presto sarà in crisi e potrebbe essere attraversata da litigi e malintesi anche di notevoli consistenza. I single avranno difficoltà a maturare nuovi amori o incontreranno persone di dubbio valore e qualità. Non riuscite più a sperare nel futuro? Cercate di darvi da fare e riuscirete ad ottenere dei risultati migliori senza far affidamento agli altri. I vostri sforzi, per quanto intensi, si dimostreranno purtroppo deboli e poco determinanti per capovolgere una situazione a voi sfavorevole. Oggi siete particolarmente curiosi e vi intrigheranno cose che non dovrebbero. Attenti ai pettegolezzi di troppo. Meno parlate meglio e. Aprite gli occhi su alcune persone che vi circondano e il cui unico scopo è carpirvi confidenze per poi spettegolare in giro e criticare perfino il vostro punto di vista. Mantenete a distanza gli importuni particolarmente oggi. Un grande ritorno di fiamma oggi potrebbe materializzarsi nella vostra vita, mettete da parte ogni risentimento e valutate la proposta e apprezzate il coraggio di riproporsi. Oggi adoperatevi per ponderare una radicale pulizia tra le vostre amicizie sui social, meglio poche ma buone. Non rattristatevi che qualcuno potrebbe protestare. In fondo è un vostro preciso diritto stabilire chi può dirsi vostro amico. Qualsiasi cosa intraprenderete avrà un discreto margine di successo. Sappiate qualificarvi al momento opportuno e seguite il vostro istinto. Messaggio che arriva da molto lontano, per i nati di lunedì e di giovedì buone nuove in arrivo sotto tutti i sensi. Oggi potreste avere dei piccoli contrattempi e accorgervi che alcuni prodotti che usate abitualmente vi mancano o stanno per terminare. Bel giorno d'aprile, cari amici leoni e leonesse, con Marte che, da oggi entrate in ariete, vi vuole primi della classe in ogni campo. Vi rimarrà propizio a darvi manforte fino al 9 giugno. Plutone nel segno dell'acquario, sommato a Giove e Aurano nel segno del toro, tuttavia vi contrastano se siete nati nella prima e terza decade è opportuno teniate i nervi saldi e che i vostri naturali sistemi di difesa siano molto alzati, anzi sempre ben allerta. Per fortuna la bella comitiva di Marte e Mercurio in un segno amico come l'ariete, potenzia quella grandissima energia che vi permette di tenere testa a ogni difficoltà piccola e grande. La luna in capricorno non demorde, vi vuole a sgobbare fino al pomeriggio, d'accordo con lei anche Giove e Urano allo zenit in quadratura, col capo che fa e disfa, dice e disdice, l'eterno indeciso, e a farne le spese come sempre siete voi. Non illudetevi che all'ora del tè tutto passi come una nuvola sospinta dal vento, nuvola sì, ma più scura e minacciosa a quanto racconta il passaggio lunare in acquario dove la bianca signora incontra il magnetico Plutone che vi corre incontro per farvi pagare qualche debito o punirvi facendovi pesanti rimostranze. Chi sarà, il partner, il socio, una persona con cui avete avuto uno scontro verbale. Attenti comunque anche alla guida, poco dopo il passaggio lunare anche Marti varcando i confini dell'ariete prenderà potere. Vero che ve lo ritroverete in trigono, garante di velocità e grinta, ma. Attenti a non svagarvi troppo, special volante. L'autovelox non perdona e la multa stavolta sarà salatissima, parola di Saturno, l'esattore fiscale in ottava casa. Amore ed Eros. Per la casa e la famiglia che amate teneramente avete fatto moltissimo, questo è un dato innegabile, tuttavia il partner ipercritico e malmostoso oggi non ve ne fa passare una liscia. Evidente che ha voglia di litigare e quando si cerca il casus belli a furia di tentare lo si trova, anche a cost di andare a provistare tra vecchi e ruggini e malintesi risalenti ad anni prima. Accesa la discussione a cena, peggio ancora se lo scontro riguarda idee politiche o la vostra visuale della vita. Fino a ieri collimavano ma oggi, chissà perché, vi sembrano lontani anni luce. Ombroso anche il quattro zampi che vi guarda con diffidenza, probabilmente pensa che lo parcheggerete di nuovo dai nonni, la sindrome di Pollicino colpisce anche lui. Lavoro e denaro. Impegnatissimi sul lavoro soprattutto in mattinata, ma anche il pomeriggio con una riunione, una trattativa in corso, un intervento rapido ed estemporaneo che non può attendere, vi fa correre a perdifiato senza un orario preciso di rientro. Remunerazione sicuramente inferiore rispetto all'impegno e alla professionalità, ma un leone dal cuore d'oro non agisce per denaro, piuttosto per idealismo, senso sociale o lealtà nei confronti della propria scelta lavorativa. Immaginatevi il giuramento di Ippocrate, anche se non siete medici il concetto vale per tutti. Lavorare al massimo delle proprie possibilità e dare il meglio di sé, questa la vostra etica, costosa in termini energetici ma incomiabile. Benessere. Stravolti, ma se avete tensione da scaricare nulla di meglio di un'oretta di palestra o di una corsa al parco con snopi che vi terrà dietro allegro e scodinzolante, sia pure con la lingua a penzoloni. La soddisfazione di aver centrato un obiettivo placherà pian piano il nervosismo restituendovi il buon umore, a una riunione o a un party sarete come sempre l'anima della festa, animali da palcoscenico nati per stare sotto ai riflettori. In mezzo alla gente ricevete energia ma la restituite potenziata, attenti però ai vampiri psichici, contro di loro occorrerebbe un'ossidiana portata sul plesso solare, respinge la negatività rispedendola al mittente. Per lei, quanto è noioso il vostro lui quando ci si mette. E allora stasera lasciatelo abbrontolare da solo e uscite con gli amici, tutta gente sportiva, esagerata felice di folleggiare, proprio come voi e se brucerà di gelosia pazienza, se l'è voluta. Per lui, presto, presto, incita una vecchia canzone di Battisti. Parole che ripetete anche voi per non perdere il treno che vi condurrà al mare, dove siete attesi dalla vostra metà, smaniosa di cascarvi tra le braccia. URA! Colore delle emozioni, rosso pomodoro. Barometro dell'umore, variabile con schiarite. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 10, finanze, 6, benessere, 9. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.